E' terminato il processo d'appello contro la famiglia Mottola per l'omicidio di Serena Molicone, abbiamo avuto la seconda soluzione e per la seconda volta nel processo di merito abbiamo dimostrato che l'impianto accusatorio era sgangherato, strampalato, basato su illogicità altamente contraddittorio, che l'arma del delitto mezzo lesivo non era porta, che i nastri non contenevano assolutamente micro frammenti provenienti dalla porta, che l'ipotesi che la povera Serena Molicone sia stata sbattuta contro la porta della caserma dei Carabinieri è una balla assoluta, è un innamoramento della tesi, è una congettura senza riscontri, abbiamo dimostrato che tutti gli elementi di sospetto, che poi erano soltanto elementi di sospetto circostanziali, situazionali nei confronti del maresciallo Mottola non valevano assolutamente nulla e che Santino Tuzzi non ha visto assolutamente entrare Serena in caserma per andare da Marco Mottola. Quindi abbiamo smontato completamente l'impianto accusatorio, ringraziamo i giudici della Corte d'Appello per la loro serenità, per la loro imparzialità, per la loro freddezza e ancora una volta abbiamo dimostrato che è sbagliato ragionare di pancia, innamorarsi delle concetture, strombazzarle come tesi dimostrate, mentre non è vero assolutamente, abbiamo dimostrato che un gruppo di consulenti tecnici ben preparati, organizzati come siamo noi, teniamo testa ai super consulenti, quelli nominati dalle varie procure, quei consulenti che vanno in televisione, che vanno ad acquisire clienti tramite programmi televisivi. Abbiamo dimostrato ancora una volta che la scienza, la logica, la freddezza, l'analisi totale, l'onestà intellettuale riescono a battere questi soggetti, questi fantasmi che si insinuano in processi per dimostrare chissà cosa e poi perdono. Grazie.